Ben ritrovati al telegiornale oristanese. I medici sardi dicono basta un regolamento ministeriale che blocca il loro futuro, non permettendo di scegliere il tipo di specializzazione da perseguire. Settiamo. Dopo aver superato la selezione per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia da sempre a numero chiuso, i giovani e meno giovani medici italiani non vedono garantito il diritto di concludere il loro percorso formativo. Eppure anche l'Italia fa parte dell'Unione Europea, gridano a gran voce, e come tale dovrebbe assicurare a tutti noi una scuola di specializzazione che rispecchi la predisposizione di ciascuno. Ma la realtà italiana è quella in cui migliaia di medici a breve andranno in pensione e non vi sono abbastanza specializzati che potranno rimpiazzare quei posti di lavoro. E in Sardegna la situazione è anche più grave, ce lo ha spiegato una giovane dottoressa oristanese che da 5 anni lavora per il sistema sanitario nazionale in provincia. La sua voce rappresenta quella di tutti e 500 i laureati sardi che, come lei, attendono di specializzarsi. Da quando è nato il concorso nazionale di accesso alla scuola di specializzazione, si è creato il cosiddetto imbuto formativo. Vi sono troppi laureati per troppo poche borse regionali. Di conseguenza viene meno la libera scelta sul tipo di specializzazione. Questo fa sì che vadano sprecate le poche borse presenti, per l'assegnazione delle quali non vi sono rigidi criteri che le indirizzino esclusivamente ai medici residenti in Sardegna. Capita quindi che i laureati di altre regioni si specializzino in Sardegna e poi ripartano per operare sul loro territorio lasciando l'isola in grave deficit di figure specialistiche. Ma i laureati sardi pensano che esista una soluzione a questo gap. La giunta Pigliaro il 5 febbraio ha infatti inserito nella finanziaria 2019 285 milioni di contributi statali pagati indebitamente dalla Sardegna per il 2018. La spesa per formare i medici sardi ammonterebbe a meno di un terzo di questa cifra. Chiediamo quindi alla politica di investire su di noi, concludono. Sono 130 le domande presentate in provincia di Oristano per il raggiungimento della quota 100. Diversi uffici pubblici rischiano una forte riduzione di personale, tra questi la Camera di Commercio e l'Ufficio dell'Inps. Cambiamo argomento. Anche a Oristano si è svolta la giornata dello spreco alimentare. Sentiamo il servizio. Anche a Oristano si è celebrata la giornata contro lo spreco alimentare. Importante occasione per riflettere su quanto cibo si butta via ogni giorno. L'appuntamento annuale è stato ideato e creato nel 2014 dal Ministero dell'Ambiente con il contributo di alcuni enti per contrastare questo fenomeno. Anche nel settore della ristorazione lo spreco alimentare ha preso largamente piede, compietanze avanzate dai clienti e ovviamente buttate dal ristorante o pizzeria senza considerare l'impatto a livello sociale, economico e ambientale. Nonostante l'entrata in vigore della legge 166-2016 sugli sprechi, che promuove l'uso da parte degli operatori nel settore della ristorazione di contenitori riutilizzabili idoni a permettere ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo, l'intero Paese non ha preso pienamente in considerazione la soluzione di portarsi a casa gli avanzi del pranzo o della cena. Secondo dati forniti nel 2017 dal Banco Alimentare della Caritas, si producono oltre 200.000 di tonnellate di eccedenze, delle quali è stimato un recupero di solo il 12%. I dati FAO dicono che il valore degli sprechi si aggira intorno ai 15 miliardi l'anno e che per l'80% deriva da spreco domestico. La giornata contro lo spreco, in occasione per fare un'analisi più accurata dei nostri comportamenti quotidiani nella gestione della dispensa, della spesa e del riciclo, ha dichiarato la responsabile dell'Unità Operativa di Igiene e della Nutrizione del Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell'ASL oristanese, Anna Maria Marrucu. La legge 166 detta alle disposizioni sulla donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici affini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi e le linee di indirizzo. Anche il Servizio di Igiene e della Nutrizione della ASL si prefice di avviare, nell'anno in corso, una campagna informativa di sensibilizzazione al problema, destinata non solo alle strutture di ristorazione collettiva, ma anche a quelle pubbliche e al consumatore privato, ha concluso Marrucu. Nessun pagamento della tassa dei rifiuti per gli over 70 che vivono soli a Nugedo e Santa Vittoria. Sentiamo i dettagli. Neanche il tempo di liberarci dell'Imu, la tassa sulla prima casa che incombe subito la seconda testa del tanto odiato demone, l'Atari, l'imposta dei rifiuti, che serve a coprire le spese legate al servizio di igiene urbana. Tassa che in molti casi risulta alquanto salata. Tuttavia esistono precise casistiche in cui è possibile ottenere notevoli sconti, se non addirittura totali esenzioni. Divessi giorni fa la giunta comunale di Nugedo e Santa Vittoria, guidata dal sindaco Francesco Mura, ha deciso che le persone anziane che vivono da solo e potranno godere dell'esenzione sulla tassa, proposta che sarà portata in consiglio comunale. Secondo l'Istat, nell'isola la tipologia di famiglia più diffusa è quella senza figli, 31,8%, seguita da quella con un figlio, 27,3%. Un dato che deve far riflettere, ha affermato il sindaco Mura. Le amministrazioni comunali sono chiamate a costruire un nuovo welfare per gli anziani costritti a vivere con una prensione minima. Persone rimaste sole per effetto del fenomeno dello spopolamento. Lo sgravio del 100% della Tari per i single over 70 si aggiunge all'esenzione della Tasi, la tassa sui servizi indivisibili per tutti i contribuenti di Nugedo. Particolare e importante, ha concluso il primo cittadino, l'esenzione della Tari per gli anziani non incide sul resto dei cittadini. Il metodo di calcolo proposto dal fisco consente infatti un abbattimento totale dell'imposta per una quota inferiore al 7% del totale della spesa del servizio comunale. È stato presentato questo pomeriggio il progetto Fab Lab Oristano, creazione di un laboratorio di fabbricazione digitale nella Sardegna occidentale. Sentiamo. Questo pomeriggio è stato presentato nei laboratori dell'Istituto di istruzione superiore Don Deodato Meloni il progetto Fab Lab Oristano, creazione di un laboratorio di fabbricazione digitale nella Sardegna occidentale. Il progetto, nato autonomamente come espressione di un gruppo di makers artigiani locali, è volto appunto alla creazione di una Fab Lab. Diversi gli obiettivi dell'interessante piano. Ce ne ha parlato il professor Antonio Burrai. Questo progetto coinvolgerà il nascente Fab Lab Oristano e l'Istituto San Deodato Meloni e verranno avviate tutta una serie di laboratori innovativi che riguarderanno tutti i campi più disparati. Perché il Deodato Meloni ha tantissimi indirizzi, quindi lavoreremo sulla parte odontotecnica, faremo protesi, lavoreremo nel settore agrario, faremo dei sensori e soprattutto utilizzeremo queste macchine affascinantissime che sono le stampanti 3D. Attiveremo dei corsi professionalizzanti per diventare chef digitali, cioè una nuova figura di cuoco del XX secolo che ha tutto il bagaglio di competenze degli chef e in più utilizza stampanti 3D alimentari, quindi connessioni uniche, si parla di nuovi ristoranti, nuove cucine, prospettive secondo me molto interessanti, soprattutto per loro perché per loro sarà il lavoro del futuro. Un disegno che coinvolge non solo l'intero istituto, ma la città e la provincia. Si tratta di un progetto cofinanziato dalla regione e dalla comunità europea e mirato a contrastare la dispersione. Nel caso specifico è stato messo in atto in team dall'Istituto Don Meloni e dall'agenzia Fab Lab di Oristano, è un'agenzia formativa, è stato rivolto a 20 ragazzi a rischio di dispersione, tra questi 20 ragazzi anche un ragazzo disabile. Ora l'entità del finanziamento è stata alquanto modesta, 9.000 euro, però con effetti notevoli proprio sulla dispersione, nel senso che questi 20 ragazzi, selezionati per la loro fragilità, hanno partecipato al corso con il 100% delle presenze. L'obiettivo del corso era di insegnare l'uso della stampante 3D nel settore no gastronomico e hanno realizzato dei cibi, cioè con le stampanti hanno fabbricato dei cibi che richiamano i simboli della sartiglia, sui componi d'ori, la stella, su stocco e così via. E quindi un progetto importante non solo per la scuola, ma per l'intera città e per la provincia? Sì, è importante perché siamo riusciti a legare un'attività che intanto è piaciuta ai ragazzi, un'attività che si è legata a dei simboli della città, un'attività che ha saputo contrastare quel fenomeno di dispersione, che si può contrastare anche con cifre modeste. L'importante è avere dei progetti mirati, le scuole più o meno sanno dove intervenire, non servono grandi studi, statistiche, noi sappiamo cosa bisogna fare perché i ragazzi vengono e che qualche volta i mezzi non li abbiamo. 11 Proloco parteciperanno alla giornata Proloco in Festa, prevista per il 25 agosto a Ollastra. Tantissimi gli altri appuntamenti in calendario a partire dal 16 febbraio per terminare il 17 di novembre. Dall'8 al 15 febbraio 2019, nell'Aula Consiliare di San Verumilis, sarà visitabile una mostra documentaria e bibliografica dedicata al ricordo delle vittime delle foibe. La mostra sarà visitabile il lunedì e il giovedì, dalle 15.30 alle 17.30, e il martedì, mercoledì e venerdì, dalle 11 alle ore 13.00. Ora sentiamo l'approfondimento di Paolo De Zogus sulla coltivazione del mandorlo in Sardegna. Di recente l'associazione agricola Copagri, in Sardegna diretta da Pietro Tandeddu, ex quadro del Movimento Contadino e della Cooperazione di Sinistra, ha sollevato il problema della coltivazione del mandorlo nell'isola a conclusione di un incontro con operatori del settore e quindi l'analisi e i dati sulla realtà produttiva nell'isola. 6.400 gli ettari coltivati, con 44.000 quintali di mandorle prodotte, resa per ettaro, secondo fonte agri, 0,8 tonnellate, contro le 0,45 dalla Spagna e le 4,3 degli Stati Uniti, con punte di diamante in California. Le crescenti richieste del prodotto da parte dell'industria dolciaria, ma anche per la cosmesi e l'alimentazione, sta creando interesse messo in movimento aspettative produttive. I responsabili di Agri si riferiscono che a Carboni è in fase di realizzazione un mandorletto sperimentale di 200 ettari, mentre a Loceri alcuni operatori si sono attrezzati con macchine per la pelatura e sgusciatura delle mandorle. Si tratta di segnali modesti ma indicativi per un percorso produttivo che in Sardegna ha radici estese e profonde, con i mandorleti che vennero nei secoli impiantati da ordini religiosi con intere aree dove sono ancora fiorenti. Si pensi alla marmilla di Ales e Mogore, a quella di Baressa, dove da 27 anni in questo comune viene celebrata una sagra dedicata alle mandorle, il cui interesse finisce nelle due giornate di festa a metà settembre e il ripetitivo convegno sulle prospettive della coltura rimasto finora a livello di pure enunciazioni. Il 10 febbraio alle ore 15.30 visita guidata allo stagno di Saeprocus con il posizionamento di una postazione per l'osservazione delle gru. Il punto d'incontro sarà la biblioteca comunale nella Pinetta di Mandriola con l'archeologo Alfonso Stiglitz e l'ornitologo Gabriele Pinna. L'iniziativa fa ecco alla giornata internazionale delle zone umide che si è celebrata il 2 febbraio. Abbiamo incontrato Lorenzo Patta, il giovane campione di atletica che la scorsa settimana ad Ancona si è aggiudicato il primo posto sui 200 metri. Sentiamo. Abbiamo incontrato Lorenzo Patta, fresco di vittoria dopo essersi aggiudicato al Pala Indoor di Ancona il titolo di campione italiano indoor nella gara dei 200 metri. Un giovane abituato ai successi perché già campione italiano outdoor è semifinalista ai mondiali di categoria lo scorso anno. Tornato subito sul campo di casa per proseguire gli allenamenti dopo la sua affermazione abbiamo raccolto le sue impressioni. Da quanti anni pratichi l'atletica? Quest'anno inizio il terzo, sì. Ad aprile faccio tre anni. Come si fa a conciliare gli impegni quotidiani e soprattutto lo studio con le gare e gli allenamenti? È abbastanza difficile. Cerco, ci provo in tutti i modi però devo dire che è abbastanza difficile. Io rientro dal campo verso le 5 e mezza, verso le 6 mi lavo e inizio a studiare. Quest'anno è ancora più difficile perché avendo 18 anni c'è la maturità. Eh sì, è un impegno abbastanza importante. Sei riuscito a coltivare delle amicizie grazie allo sport? Sì, devo dire di sì. Mi sto trovando veramente bene nel mondo dell'atletica. Ho trovato veramente tanta bella gente e anche nella nazionale sono veramente amico non di tutti ma quasi. Ci sono dei prossimi obiettivi importanti da raggiungere? Sì, ci sono i campionati italiani outdoor a giugno e poi ci sono gli europei in Svezia a Boras dove puntiamo a fare qualcosa di veramente bello. consigli quindi lo sport e questo tipo di sport soprattutto ai tuoi coetanei? Sì, lo consiglio veramente tanto perché riesce a darti veramente delle emozioni incredibili soprattutto quando ottieni risultati ma anche praticandola così, anche a livello regionale, è veramente bello. Grazie e in bocca al lupo. Sabato prossimo alle ore 16 in Piazza Eleonora si terrà un sit-in a cui sono invitati a partecipare tutti coloro che al di là di ogni convinzione religiosa e politica intendono esprimere l'opposizione a ogni provvedimento improntato alla negazione dei diritti umani, all'odio e al razzismo verso coloro che fuggono da guerre, violenze, fame e povertà. È prevista la lettura di brani significativi e un flash mob. Vi ringrazio per averci seguito e appuntamento alla prossima edizione del Tg Oristanese.